Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui il vostro Ale Lorenzi e come avete ben capito dal titolo e dalla miniatura non è assolutamente un errore non ho sbagliato a scrivere sono stato vittima di scam con un NFT ci sono diversi motivi per il quale voglio fare questo video quindi prima di entrare nel computer e dirvi qual è stato il progetto eccetera eccetera voglio fare con voi delle doverosissime riflessioni la primissima è quella di iscrivervi al canale se vi piace questo tema perché continuerò indubbiamente a raccontarvi quella che è la mia esperienza in questi mesi ho mintato diversi progetti non tutti sono andati così in realtà solamente uno con altri ho fatto anche dei profitti che vi racconterò all'interno del canale quindi continuate a seguirmi ma come sempre questi non sono assolutamente consigli finanziari ed è proprio da qui che vorrei far partire questa riflessione all'interno di questo canale che tratta di business online media buying e tantissime altre cose ho anche raccontato sì la mia passione per gli NFT non sono assolutamente un esperto non mi interessa diventarlo è un business che sicuramente oggi è sulla bocca di tutti lo sapete tutti ovunque vi girate vedete NFT vedete celebrities persone che vi invitano a seguire degli NFT ed è bene fare qui proprio un grande focus ovvero sicuramente là fuori è pieno di progetti sicuramente si ha tanta percezione di fomo cioè se perdo questo progetto sono veramente tagliato fuori che è una delle strategie di marketing più potenti e che ho anche trattato all'interno di questo canale proprio perché è una strategia di marketing che io stesso utilizzo con diversi business con i business che seguo e quindi da una parte sia tanto la percezione di essere tagliati fuori dall'altra parte sia anche la percezione che se perdi un progetto sicuramente poi ne arriverà un altro quindi non hai in realtà perso chissà che però ci sono sicuramente dei progetti ben costruiti dai quali ti dispiace rimanere tagliato fuori e questa è una strategia appunto di marketing la fomo che non viene applicata solamente agli NFT viene applicata in qualsiasi strategia anche booking.com applica la fomo quando siete sull'hotel che vi piace tanto e vi dice che rimane solo una camera e c'è un pop up che vi dice che 7 milioni di persone la stanno guardando e che se non vi muovete una di queste sceglierà la vostra camera ok la riflessione mia qual è sicuramente sbagliando si impara quindi sicuramente essendo io le prime armi se vogliamo nel mondo degli NFT muovendo i primi passi informandomi così come fanno tutte le persone seguendo youtuber ascoltando blog leggendo articoli testando anche investendo anche dei soldi ci sta che non tutti gli investimenti vadano per il verso giusto è comunque un investimento basato sulla blockchain è comunque un NFT ed è comunque rimane indipendentemente dalla sua natura un investimento e come tale può andare bene e come tale può andare male come tale può avere una previsione erosea e fatti diversi come tale può avere una previsione mediocre e scarsa e poi sorprendere tutti è di fatto un investimento ed è molto volutile e questo penso che sia alla base di tutto e penso che debba rimanere fortemente nella mente di tutti quanti perché ripeto là fuori è pieno di persone che magari raccontano la propria esperienza così come ho fatto io e così come continuerò a fare io perché usciranno altri video e voi stessi mi avete invitato a raccontarvi la mia esperienza di totale trasparenza e questo video dimostra anche la mia totale trasparenza nel dirvi che cosa è successo tuttavia bisogna sempre ricordarsi di ragionare con la propria testa fare i propri ragionamenti capire quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male capire da soli senza spinte senza come potremmo dire automatismi mentali nei quali io vado e butto tutti i miei soldi piuttosto che altro ricordatevi sempre questi sono i miei two cents da amico da persona che sta muovendo i primi passi nel mondo degli NFT e ripeto alcuni progetti sono andati bene altri li ho in stand by ma non li sto vendendo seppur sono molto rose sulla carta quindi dai quali potrei fare profitto ma non voglio farlo in questo momento e altri uno in particolare perché altri uno è stata effettivamente una scam e tutti lo sanno non è stata una scam di quelle come si diceva in passato è una scam esci eccetera eccetera questa è stata proprio una scam a tutti gli effetti fulmine a cielo sereno quindi perché voglio fare questo video perché al di là di invitarvi sempre a ragionare con la vostra testa indipendentemente dal guru che seguite dalla persona che seguite dal progetto che vi piace anche per il fatto di raccontarvi la mia esperienza che penso possa essere d'aiuto a tutti quanti indipendentemente dal settore ripeto è un investimento se domani vi mettete a fare trading se domani aprite un e commerce se domani fate una facebook ad non è detto che tutto sia profittevole come pensate potrebbe andare meglio potrebbe rispettare la previsione potrebbe andare peggio è una sfera di cristallo che come in tante altre sfaccettature della vita nessuno ha e tutti e quindi l'importante è cercare di guardare sempre il lato positivo è sicuramente un investimento che ad oggi mi ha fatto buttare soldi è un investimento che non è andato non andrà tuttavia è un investimento che mi ha insegnato molto perché nonostante appunto sia stata una scam nonostante le cose non siano andate bene nonostante io abbia anche raccontato questo progetto in totale trasparenza perché sulla carta mi piaceva sicuramente è un progetto che mi ha insegnato molto altro oggi se devo mintare qualcos'altro faccio tesoro di quello che ho appreso in questa situazione e con quello che ho appreso proprio da questa situazione ho una certa allugimiranza nel guardarne altri nel capire cosa funziona e nel dove investire i miei soldi quindi ecco perché ci tengo a condividere questo video con voi anche perché ripeto anche voi stessi mi avete chiesto di aggiornarvi seppur io faccio tutt'altro di lavoro e questa è semplicemente una passione ok quindi detto tutto questo tutto questo preambolo che però dal mio punto di vista è doveroso avrei potuto iniziare il video dicendovi sono stato scamato questo progetto chiudiamo ci tenevo particolarmente a dirvi che cosa è successo a raccontarvi che cosa è successo perché è stato un progetto che sul canale non ho neanche rivelato nel senso vi ho raccontato di averlo mintato chi mi segue da un po' sicuramente sta capendo ma è un progetto dove non vi ho mai neanche fatto vedere quale nft mi era uscito anche perché onestamente già da lì mi aveva molto deluso e da lì avevo capito che c'erano delle acque che non tiravano tantissimo bene però è anche vero che quando si è principianti che quando si muovono i primi passi ci sta inciampare da qualche altra parte l'importante come vi dicevo è sempre seguire una lezione che per me è fondamentale ovvero che non è mai un fallimento ma è sempre una lezione e capire che cosa noi possiamo portarci a casa da questo poi qui cosa è successo ora non riesco a farvelo vedere perché qui sono da un altro computer un bel giorno i founder hanno deciso di uscire dal discord abbandonando completamente il progetto è rimasto solo un moderatore e da lì ovviamente la chat ha preso un'altra piega che è quella di persone che avevano investito in un progetto che poi non era andato a lungo termine e non ha assolutamente rispettato la roadmap non ha assolutamente rispettato le aspettative ovviamente le persone sono scappate con i loro guadagni saluti e amici come vedete è un progetto che effettivamente va sempre peggio anche se noi torniamo su open si e guardiamo addirittura questo regalato se torniamo su open si vediamo che è sempre peggio che comunque c'è gente che sta dando via a 31 centesimi quasi perché non lo vuole neanche più vedere però effettivamente è un progetto che è finito a se stesso è finito cioè non c'è più niente da dire anche se andiamo su loro instagram è un instagram fermo cioè gli ultimi post hype 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 per il reveal reveal finito basta da lì a poco sono sono andati via fine ora ovviamente ripeto l'impronta che sto dando io a questo canale nel mondo degli nft è un'impronta di una persona che si sta muovendo si sta appassionando sta testando e io personalmente avevo messo in conto che le cose non sarebbero andate come volevo non su tutti i progetti quantomeno e anzi io vi invito a diffidare a quelli che vi fanno vedere che hanno solo profetti rosei e le cose non va cioè gli vanno tutte perfette perché oggettivamente è una cosa matematica le cose non possono andare sempre perfette se fai dieci investimenti puoi essere bravo di farne nove a profitto magari uno no però uno ci deve essere ok quindi ripeto io adesso ho un buon pacchetto nft ho ottenuto alcuni progetti nei quali credo molto che conosco per esempio Beardez il team quindi dove ho più anche se vogliamo controllo no perché c'è una certa trasparenza rispetto ad altri progetti dove invece ho flippato e li ho venduti subito andando a fare anche dei profitti e vi porterò dei video dedicati facendovi anche vedere come in altre situazioni ho visto che le acque non erano rose e c'era qualcosa che mi puzzava ho venduto ho fatto profitto e ho abbandonato la nave e oggi lì col seno di poi anche frutto di quello che ho imparato qui sono contento di averlo fatto perché oggettivamente ad oggi se andassi a mintare un altro progetto farei indubbiamente tesoro di un'analisi molto più accurata della landing del team ma ripeto anche se facessi un'analisi super accurata fossi super dettagliato terrei sempre comunque in considerazione che le cose non è detto che vanno come vorrei potrebbe sempre succedere che le cose non vanno come voglio che a un certo punto le cose spariscono o semplicemente esce un progetto più interessante sposta la hype lì e le persone ne escono escono da quello dove avevamo mintato e il floor price va giù quindi il motivo per fare questo video ve l'ho spiegato già diverse volte all'inizio durante e anche ora in fase conclusiva fate sempre le vostre riflessioni non prendete consigli finanziari ragionate con la vostra testa formatevi ma anche quando vi sentite totalmente sicuri se volete dormire sonni tranquilli diventate un po' paranoici non ovviamente in modo malato ma un pochino a quel punto di dire ok io sto investendo questi soldi in questo nft so che le cose possono andare bene so che le cose possono andare male se mi vanno male nonostante io sia sicuro nonostante mi sento certo eccetera eccetera vivo lo stesso se perdo tutti quei soldi oppure non ci dormo oppure mi incasino la vita e da lì ognuno traga le sue risposte ma considerate sempre una fase in cui le cose potrebbero non andare come volete che può anche essere semplicemente che inventate un progetto il progetto va bene ma voi avete bisogno di liquidità e vendete e fate meno di quello che avevate pensato ok deve essersi sempre una gestione del rischio l'avevo preventivato sapevo che le cose non sarebbero andate sempre come avevo preventivato quindi non mi sono neanche incazzato non mi sono neanche spaventato ovviamente non è una cosa che fa piacere a nessuno ma ripeto l'avevo preventivato quindi spero che questo video faccia un po' riflettere anche tutti quanti e faccia capire quanto è importante formarsi così come in altri modelli di business seguire le persone giuste e commettere anche gli errori che poi ci permettono di diventare più forti e anche più sicuri in merito a tutto quello che andremo a fare ci vediamo nel prossimo video